Voglio avere per la nazione ebraica la terra promessa dalla Bibbia. Sto ridendo perché la parola giusta per questo è lavaggio del cervello. Lei deve dirlo, spiegarlo, viverlo, perché questo è l'unico modo per continuare il sionismo. Non vedo niente di estremo nel mio approccio, è l'approccio ebraico di base. Oh no, questo è il futuro di Israele.